Musica Alza la testa, trova il buco per servire con una splendida palla Coco Wellington Andre Ferreira, ancora Ducci ma ad un passo dal 3 a 0 il Pescara di Coco Wellington che poi regala il pallone a Caio Junior Mammarella Super parata di Mammarella sul sinistro di Caio Junior Mostruoso Stefano Mammarella, mostruoso Per Coco Schmidt, ancora Andre Ferreira, Ducci e poi la conclusione col mancino di Coco Schmidt 55 secondi, Eric col sinistro, Ducci risponde Coco Schmidt dentro il pallone, si salva l'Olympus Tra i portatori di palla e Giappa Attenzione perché ora c'è il tiro e la parata decisiva di Montefal La partita tirando da fuori Ed ora ci prova, questa volta, ecco vedete Azzoni questa volta si è reso decisamente molto più pericoloso Il servizio per Giappa Giappa, Giappa, parte il tiro Pallone che si alza, Azzoni, Azzoni, Azzoni Azzoni, è grandissima la parata Messa in laterale, comunque poco cambia Parte Giappa, ancora la risposta di Montefalcone Bocca, attenzione, c'è la possibilità Adeguata come hanno preparato Attenzione intanto che escono bene da questo time out Con Rafinha, che arriva al tiro e gli Elmi Sulla strada del pallone c'è Victor Mello Che ne approfitta Allarga per Rafinha Al centro per Victor Mello Può distendersi la felde eboli con Bissoni Bissoni Per Luisigno Mette a sedere Rafinha Luisigno Bissoni Parafiusa Palla rubata Calderolli Anticipato da Rafinha Bissoni Allarga per Parrello Yelmi Gli chiude lo specchio Calderolli Ruleta Di Fabrizio Calderolli Pesca Pesca Grande parata diffusa E poi Calderolli Spara alto Se Lucio Rientra calcia Grande parata diffusa Che ora va a gestire questo pallone Sbaglia però Rafinha la fa sua Rafinha per Kakà Yelmi Lo ipnotizza Luisigno Rientra Luisigno Luisigno L'ha toccata a Fiusa Caponigro Va via Felipe Mello Caponigro Fiusa due volte Minocoloso Luan Fiusa Victor Mello Rafinha Cacà un po' di spazio La parata di Yelmi E poi L'ultimo tocco di Felipe Mello Lancio per Parrello Grande aggancio di Parrello Yelmi Samuele Yelmi Pesaro Poi Fortini Ha supportato Dalla tensione Subito Alonso E subito L'intervento Due volte Da parte di Spindola Apre bene Per Tagliercio Che va ad affrontare Proprio Fortini Favorisce Carmelo Musumeci Botta E Spindola Campoi Pallone fuori Galan Attenzione Borruto Tornatore 18 di Pesaro Che poi si gira Tornatore Poi sull'arrivo Attenzione a De Oliveira Borruto Tornatore Ha mandato via Rossetti Ancora Onorio Ancora Tornatore Vediamo cosa vuole fare Calcia Rossetti Non concedere numero di Cuzzolino Tornatore E' andato a respingere Italo Rossetti pure Ma c'è anche Borruto Che arriva Con i giri E poi Miracolo di Tornatore Su De Oliveira Alonso Rossetti E Spindola E poi Doppio Rossetti Che deve cercare di sfruttare al massimo Alonso e Spindola Di Bijac Adesso Iosico col sinistro Sempre presente Il numero 20 L'estremo difensore Della squadra vellinese Tiago Perez Siqueira Per Iosico Palla in mezzo Compoletto Che non riesce Nuovamente a bucare la porta L'ennesimo L'ennesimo intervento Di Tiago Perez Ha salvato ancora Il risultato Ora verso Mohamed Attenzione Lo scarico Occasione buona Per l'opportunità Per Polviretti Doppia Doppia Parata di Marzio Gagno Stazzone Destro Gagno In due tempi C'è stato spazio Intanto Attenzione La grande Parata di Gagno Stazzone L'anticipo ancora di Perugino Attenzione La scienza La conclusione Parte il fuoriclasse argentino Il tocco dentro Con Mohamed Che non riesce A trovare L'impatto Basile Gagno c'è E' in vantaggio Intanto Qui il palo Colpito Mohamed Con la palla ancora Che arriva dall'altra parte E poi Si oppone E poi sul fondo Mamma mia Ancora La suolata Per il numero 13 Attenzione La conclusione Gagno c'è Tocco all'indietro ancora Per Mohamed che calcia Mamma mia Sta decidendo cosa fare Poi Trova Giuseppe Arillo Arillo La tiene E poi Weber Poi La parata di Gagno Fortino Attenzione Fortino La parata di Weber Poi Ancora il tentativo Di Grasso Basile Sinistro Gagno c'è